possiamo andare ragazzi qui c'è francesco gabbi casbi casanova è il mio numero uno ma fa facertà ciappanzo le donne che ce l'ha francesco non ce l'ha nessuno non vi sciomunite vini e panini vini e panini ottimo ciao buonasera io sono alessandra lambiase lei è angela sale siamo venuti qui solo per fare una dedica a chi? al carmine gaudino ok carmine ti vogliamo dire mi raccomando non te la tirare perché noi ti conosciamo bene anche se ti dicono che sei un frescone non te la a tirare e poi ti vogliamo salutare dicendo che noi facciamo parte del gruppo appartenenza ma io stiamo nel confessionale ragazzi ma siamo belle ciao a tutti ragazzi qua stiamo aspettando il vincitore buonasera siamo qua davide e panini una serata bellissima insieme a ma come a ok ti apposto e a carmine e a carmine una bella serata una bella location con questo locale e non solo un'area di famiglia qua in questo locale non possiamo dire altro che stasera ci sta questa famosa serata del social please 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 o please please e quindi la corrida si canta si balla per stare tutti si passa col piattino si passa col piattino giusto per una ricompensa per una ricompensa cosa? all'esibizione all'esibizione che ognuno fa e quindi ci si sente non solo in un locale ma ci si sente come a casa ma possiamo uscire da qua dentro che fa caldo? no noi usciamo io esco Maria io esco Maria noi usciamo un bacio lui il numero sta avanti molto avanti vabbè dici pure qualcosa l'amico Lorenzo è stato fin troppo generoso ma vabbè è anche normale che comunque essendo giovane conosca varie ragazze poi comunque facendo anche il PR ma non posso mai arrivare ai livelli del mio maestro Giovanni Casanova che faremo poi tornare dopo dentro eh perché giustamente è giusto che deve lui confermare tutto quello che stiamo dicendo si vabbè ci vediamo dopo ciao ciao buonasera la verità sto pensando che adesso vado proprio di la a farmi un bel panino un bel black terror sempre per la vita qui è un posto fantastico ci siamo divertiti tutto tantissimo si canta si balla ci si diverte si ride anche senza motivo si sta benissimo venite 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 a trovare Carmine grazie è bello qua è bello lui è bello tutto ciao ehm meno male che tengono la pazienza di sopportarci quando veniamo secondo me siamo pressanti ehm si direi di si però il penno è buono e siamo amiche di Kevin Catarella che è nel nostro cuore ma cosa hai per discolparti? dillo e che posso dire che il buongiorno di Casanova fra poco lo fanno santo per sopportarmi oltre le serate anche per gli eventi che facciamo da vini e panini dillo A volte sono maldestro che faccio pischiare la casa perché tendo a collegare male il cavo del microfono Poi, continua, quanto parli? Eh parlo assai, talmente assai che le persone rischiano di addormentarsi, chi mi conosce ormai si è fatto il callo Quante volte mi ripeti le stesse cose? Abbastanza Abbastanza non è abbastanza, quante volte? Eh, un milione di volte, minimo all'incirca Vabbè, ci siamo divertiti a Sovini e Panini, bicicletta, Redovic, The Social Place Ci siamo divertiti, quest'anno ci siamo divertiti tantissimo, come anche l'anno scorso Hai un saluto a Giovanni, ottimo il panino, ottimo la scena, il vino soprattutto Ottimo la serata, bella gente, brazo, ci vedete presto, molto presto Un saluto, ciao Ci puoi portare, ci puoi portare, qualcuno che viene a provare la lap dance E noi provvediamo ai pali No, a me piace stare qua dentro No, secondo me Lorenzo Si è liberato No, 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 no Lorenzo è lui Non ho fatto nulla Ce la faccia rilassata Ce la faccia rilassata La verità che non ho fatto nulla Ragazzi, come passa il tempo, vedi qua Ti crescono i capelli, a me si fanno neri A lui, comunque saluto tutte le mie donne Una, una sola E poi, è assai pure Saluto anche io Le fidanzate dei miei figli, voglio dire, queste altre donne E qualche saluto alle mie gognate, mia mamma, mia sorella Ciao Buona notte a tutti, noi siamo stati qui da Vini e Panini per l'ultima serata della corrida Voci straordinarie Sto straordinari a Panini straordinari E Vini straordinari Basta, ok basta Biciclette straordinarie Perché ci sta E poi mi hanno staccato il microfono E questa è la cattività Non è giusto Vabbè, quindi Buonanotte, però con il risentimento Ma anche con tanta gioia Felicità Tanta gioia, sì Buonanotte Buonanotte Devo dire la verità, quest'anno siamo andati Ci siamo divertiti alla pari O addirittura ancora di più rispetto all'anno scorso Che abbiamo fatto quest'anno? Quest'anno abbiamo fatto Ti amo se è preparato, Gatsby Si fa a chiamare Gatsby Vai Abbiamo fatto quest'anno, abbiamo fatto Tu si che vale E tu vale Eh, vabbè, dipende da quale interpretazione è Ma questo è il futuro dirigente responsabile, direttore presidente della Cuomo? No, fratelli Cuomo SNC Che vendite? Eh, produciamo macchinari industriali per l'industria conserviera e agroalimentare Buonasera, buonasera a tutti voi che mi ascoltate Qui in questa camera Voglio dire che è una bellissima serata A vine, panini e bicicletta Sono un ragazzo che giro spesso i locali Però come mi trovo qua A dire la verità Mi trovo bene perché è un ambiente Diciamo non solo di cliente e titolare di un locale Ma è un ambiente dove si può stare tranquilli e godessere delle gioie e del divertimento in questo locale Ma che dire, fate anche voi questa esperienza in questo locale di vine, panini e bicicletta Perché io mi sento a casa Voi non lo so quando venite qua cosa, come vi sentite A voi vi lascio una buona serata e tanto divertimento a tutti voi Un bacio da casa Comunque dobbiamo dire che abbiamo la performance di stasera Di molte persone tra mia Martina e tante altre canzoni Proprio da farti scendere i testicoli a terra Da farti diventare i testicoli come la Mugolfira Non si tagliava le vene Che faremo ancora? Faremo i mangioni Quando? Non mercoledì prossimo, fra due mercoledì Tre Mercoledì prossimo ci sarà banda con Gianluca Pagano Poi? Poi avremo i Cinque Sensi Bravo Poi avremo i Mangioni I Mangioni che faranno agare chi mangia di più e chi beve di più Poi faremo In onore dei bambini In onore dei bambini, la sera dei bambini Ti sei divertito un po', oltre a distruggere le casse e i marone Ti sei divertito? Si, mi sono divertito Ma che tipo sto cazzo è bello Ciao Ragazzi Il problema non è la panza Il problema non è la panza Il problema non è la panza Allora, calmatevi Il gruppo appartenenza manda un saluto a tutti Ciao 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 Che cosa dobbiamo dire? Non è che uno vuole essere critico nei confronti della serata o meno Né critico nel video box Perché è adorabile il video box Abbiamo fatto la richiesta, volevamo lasciare un commento serio tra persone serie Ora io mi chiedo Ci sono le persone serie? Ma tu che cazzo fai? Possiamo fare tranquillamente la richiesta di 104 Sì, tranquillamente Possiamo prenderla Siamo idonei Possiamo prenderla Io faccio l'accompagnatore di Carmine Caudino e di Raffaele Ciao Ciao ragazzi Siamo Davino e Panino, un bacione da nocera A tutti coloro che ci conoscono Sì La vincitrice che stasera ha vinto Ti ha vinto, ti ha vinto Bacio a mia figlia Anna Allora, vorrei mettere che siamo a Vini e Panini E la musica, vabbè, sembrerebbe di quella appartenere ad altri club O meno, ma a Vini e Panini stanno anche ballando Con quell'occasione per salutare i miei soci Giovanni Casanova, Lorenzo Mandarino E li ringrazio perché se siamo così sorridenti E grazie anche a voi Vi lascio un bacio e soprattutto una buonanotte Da Carmine Caudino E tutto a Vini e Panini A mercoledì prossimo Ciao a tutti Ciao E' successo quello che è successo Buonanotte E' successo